Se tu vedessi un furto ad un senza tetto davanti ai tuoi occhi, come reagiresti? Qui ci sono 10 euro, io sono il senza tetto e lui il mio complice, il ladro. Crescenzano, apertura forte a sinistra. Sì, hai fatto un bel gesto, perché hai reagito? Perché bisogna anche chiedere un poverino e non lo chiamerò così, grazie mille. Apertura pari a sinistra. Già, conta nobile a lei. Ma non sta casato. Non c'è, 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 non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Sì, e lui mi ha rubato i soldi. Sono io con la Rosa Ponte, le ho detto, guarda che colore, è stato un bellissimo gesto, grazie. Grazie a tutti. Perché hai reagito? Perché mi sembra la cosa più giusta da fare, semplicemente questo. Grazie mille.